E' stata definita la programmazione della rassegna cinematografica al Parco del Poggio. Dal 7 agosto al 7 settembre sarà la società Heart di Luciano Stella ad assicurare una manifestazione molto seguita da turisti e cittadini nel Parco dei Colli a Minei. Il biglietto costerà 4,50 euro e se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, sarà possibile anche estendere ulteriormente il periodo di proiezioni, che cercheranno di accontentare numerosi gusti e preferenze. Io ringrazio molto Luciano Stella che ha dato la sua disponibilità perché, devo dire, anche con grande sollecitudine e anche veramente soprattutto, non certo per interesse aziendale, ma soprattutto per colmare un vuoto sul cinema che ovviamente a lui, come a noi tutti, è una cosa che stava molto a cuore. Quindi il Parco del Poggio si farà e ci sarà, credo, proprio per l'alta qualità della società che è impegnata, ci sarà sicuramente un bellissimo programma di cinema estivo. L'estate a Napoli sarà presente anche sul lungomare ed in piazza del Plebiscito. Dopo le vicende della rinuncia alla installazione del village, infatti, si è approntato un programma musicale che coprirà buona parte del mese di agosto. Partendo dall'iniziativa che avevamo già programmata, che è Mandolini sotto le stelle, a piazza del Plebiscito, di organizzare un periodo che, partendo da quella data, possa arrivare anche oltre il ferragosto per animare le serate anche sul lungomare. Quindi da piazza Plebiscito al lungomare avremo un'offerta culturale e musicale che, innanzitutto, consenta ai cittadini di Napoli che sono presenti in città di trascorrere delle belle, interessanti ed emozionanti serate e poi, in ogni caso, arricchire l'offerta culturale e turistica per intanto i turisti che sono veramente numerosissimi anche in questo periodo estivo. Naturalmente c'è l'estate a Napoli che continua con il suo intenso e bel programma. Proprio ieri ho presentato questa bellissima rassegna teatrale che si fa dal 18 al 30 agosto a San Domenico Maggiore. Veramente una bella rassegna teatrale, classico contemporaneo, belle compagnie, bravissimi registi, tanti bravi attori, anche tanti giovani talenti e poi, anche all'inizio di agosto, andrà in scena il maschio angioino la tradizionale rassegna ridere, che è anche un bellissimo cast, un bellissimo programma molto interessante anche quest'anno. Quindi mi pare, diciamo, che l'offerta culturale dell'estate a Napoli sia molto ricca, varia.